Rimboccarsi le maniche, così fu sei anni fa, quando distrutto lo storico locale in centro storico, in via Patini, a casa del terremoto, Stefania e Sue hanno dovuto rimboccarsi le maniche, lavorare, investire, reinventarsi, riaprire altrove sul viale della Croce Rossa dopo una vita in centro. Oggi dopo sei anni un altro stop a causa di un cortocircuito al quadro generale del locale che ha mandato in fumo letteralmente parlando questi anni di lavoro e sacrifici. Nel locale non c'era nessuno e per cui una volta arrivati solo la conta dei danni, danni importanti. Ma Stefania, storica gestrice con la sua famiglia, è una tosta, abituata a lavorare, a non fermarsi mai. Infatti stamani come sempre era sul posto di lavoro, a tentare di riordinare il locale e anticipare più possibile la riapertura. Già siamo ripartiti e continueremo ad andare avanti, ci sono state tante persone che ci hanno aiutato, è successo purtroppo, guardiamo avanti. Ieri appena è successo abbiamo iniziato a cacciare la roba, tutto, spero che fra una quindicina di giorni saremo attivi. Grazie a tutti. Straordinaria anche la gara di solidarietà degli aquilani per dare una mano in termini pratici. C'è chi aiuta a portare fuori quel che resta, chi pulisce, chi riordina. Non ci si ferma insomma. Con le lacrime agli occhi, quelle sì, di chi in questi anni ha fatto sacrifici enormi per tenere in piedi un'attività commerciale. Un via vai di clienti anche oggi a dare solidarietà. Certo, così ci si sente meno soli e si ricomincia più facilmente.